Ciao da Apsim! Wow, questo potrebbe essere il penultimo video di calciomercato, poi magari facciamo un recap finale prima di un bel po' di tempo, che bello. Non che sia stato un calciomercato chissà quanto frenetico, anzi per la Juventus praticamente tutto fermo, solo operazioni per l'Under 23, parliamo anche degli ultimi colpi in tal senso in questo video, però tra l'altro ho provato a raccontarvelo comunque anche io in maniera poco frenetica quindi non sarebbe stato frenetico lo stesso in questo calciomercato ragionato, lento, in cui cerchiamo di capire prima come vanno a finire un po' le vicende invece di parlarne subito in maniera così trascinata magari dall'entusiasmo e allora vediamo le ultime cose che possiamo dire su Mandragora per esempio che va al Torino, su Rugani che è ancora un po' in bilico, ma soprattutto su Sami Chedira che oggi, primo febbraio, sarà con ogni probabilità, anzi direi con ogni certezza annunciato nuovo giocatore dell'Herta Berlino. Prima di entrare nei dettagli vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per non perdere i prossimi video che siano di mercato o di campo e cominciamo allora con Sami Chedira vedete questo mezzo sorriso sul mio volto perché sono soddisfatto, sono contento, gioisco e festeggio festeggio l'addio di Sami Chedira dalla Juventus perché non ne potevo più, perché non vedevo l'ora a stenersi adesso persone sensibili e suscettibili perché, attenzione, nessuno, nessuno vuole togliere a Sami Chedira il merito delle ottime stagioni che ha offerto i Maia Bianconera il problema è che queste ottime stagioni sono state complessivamente tre ma io ci metto solo la stagione 2016-2017 nella quale è stato veramente un grandissimo calciatore veramente un grandissimo centrocampista la prima, 15-16, che ha fatto con la Juve, pure era ad altissimi livelli ma veniva da un infortunio e la cominciò da infortunato non riuscendo a stare sempre in campo nella stagione 17-18 iniziò un po' a calare Chedira pur non essendo già vecchio, diciamo così però continuando comunque ad offrire delle buonissime prestazioni poi però da praticamente maggio 2018 si è perso perché ha cominciato a mettere uno dopo l'altro degli infortuni anche prolungati, anche seri e quindi non l'abbiamo praticamente più visto ricordate che in particolare a febbraio del 2019 ebbe un problema al cuore quando dovevamo giocare contro l'Atletico Madrid si disse che perdemmo 2-0 al Wanda Metropolitano anche per questo e poi da lì praticamente non l'abbiamo più visto il problema qual è? è che nonostante si capisse che potesse essere in fase calante a settembre 2018 qualcuno pensò male di fargli quel prolungamento di contratto perché Chedira sarebbe andato in scadenza 2019 e sarebbe stato perfetto col senno di poi perché se ne sarebbe andato Allegri che in Chedira vedeva un giocatore fondamentale e magari il nuovo allenatore avrebbe cambiato idea poi Sarri incidentalmente non ha cambiato idea stiamo ancora cercando di capire che cosa voleva fare Sarri del suo gioco con Chedira e il rinnovo dei settembre 2018 tra l'altro fu con un aumento di stipendio a 6 milioni dai 4 letti che percepiva che è ancora una carta segreta cioè non si capisce assolutamente quali siano state le considerazioni che furono fatte all'epoca quali i motivi di un'operazione del genere che ci sia ritorta contro perché se Chedira è rimasto sul groppone senza trovare un'altra squadra è stato per quello stipendio è stato perché non andava ancora in scadenza adesso il contratto va in scadenza a giugno 2021 io non avevo più speranza che se ne andasse ma invece se ne va perché evidentemente ha accelerato ha deciso di andare a giocare all'ERTA Berlino ieri visite mediche oggi praticamente l'ufficialità un contratto di 6 mesi con opzione o forse di 2 anni di un anno e mezzo insomma sta lì sta lì diciamo non è più cosa nostra ma probabilmente c'è una recessione con Chedira nel senso l'ERTA Berlino non ci paga nulla andiamo semplicemente a risparmiare 3 milioni netti forse meno che dovremmo ancora avremmo dovuto ancora dare più il lordo chiaramente per lo stipendio del calciatore buona cosa buon risparmio ma nulla di eccezionale con Pirlo che aveva parlato proprio prima della partita contro la Sampdoria in risposta in conferenza stampa alla specifica domanda di Samy Chedira dicendo ne abbiamo già parlato come a dire non è cambiato nulla non è tenuto in considerazione come da agosto come gli era stato detto fin dalle primissime battute di questa stagione ora un grande campione un giocatore di grande qualità di grande dignità professionale cosa avrebbe fatto a sapere che sarebbe stato fuori rosa al di là della lista UEFA avrebbe cercato e trovato se fosse stato veramente ancora un giocatore di grande valore un'altra squadra dove andare perché Chedira non l'ha trovata o perché non l'ha voluta cercare e quindi non ha avuto il massimo impegno di liberarsi dalla Juventus o perché non l'ha trovata perché non aveva più quel valore che molti hanno continuato ad attribuirgli in maniera assolutamente campata in aria tra tifosi e giornalisti ed infatti l'ultima voce giornalistica che abbiamo tratto prima dell'addio di Chedira è stata Chedira potrebbe rientrare in rosa anche fuori lista UEFA ed essere utile solo per il campionato ma secondo voi chi le ha messe in giro queste voci e per quale motivo perché scrivono queste cose campate in aria perché sanno che sono campate in aria probabilmente sì ma anche fondamentalmente per tirare ancora un po' di sostegno al calciatore nel momento in cui deve dare l'addio io la vedo in questa maniera sarò malizioso ma così la penso Chedira che chiude quindi con la Juventus dopo 5 stagioni tolto ovviamente quella attuale con 145 presenze 21 gol 13 assist 10.590 minuti in campo 5 scudetti 3 Coppa Italia una Supercoppa Italiana ma anche più di 20 infortuni 92 partite saltate e 548 giorni da infortunato l'ultima partita seria giocò a 70 minuti fu Atalanta-Juventus 1-3 del 23 novembre 2019 fu un disastro provocò un rigore per fallo di mano nel primo tempo che poi fu sbagliato provocò una serie di occasioni da gol nel primo tempo almeno un baio nitide e poi fece segnare Gosens dimenticandoselo completamente nel secondo tempo su un cross dove l'Atalanta stava attaccando già da qualche secondo quindi si addormentò letteralmente questo è anche stato Samy Chedira non è stato soltanto quello che si è sempre detto cioè un grandissimo calciatore continuare a sentir dire se sta bene il nostro miglior giocatore significa essere fuori dalla realtà perché intanto se sta bene quando non sta bene da anni e poi per quale motivo dovrebbe essere il nostro miglior non calciatore ma centrocampista ne abbiamo anche altri nel momento in cui ci esaltiamo per McKennie Bentancur e Artur giustamente sono il primo a farlo perché reclamiamo ancora Samy Chedira quindi rispetto per quello che è stato fino ad un certo punto non rispetto per quello che è stato dopo perché se ne doveva andare doveva avere la dignità e il rispetto di andarsene invece ha continuato a percepire soldi che non ha mai meritato sul campo o non al momento in cui li ha presi e cioè di certo non a fine 2018 e io personalmente sono molto contento che finalmente Samy Chedira se ne andrà ma naturalmente ognuno può avere la sua opinione e passiamo alle altre notizie di calciomercato partendo direi da Rugani che sta vivendo evidentemente un momento no al Ren qual è la sua situazione come ricorderete ad ottobre insomma alla chiusura praticamente alla chiusura del calciomercato estivo si riuscì a organizzare questo trasferimento di Rugani il 3 ottobre per la precisione al Ren in prestito secco fino alla fine della stagione stessa cosa che è stata fatta per esempio per De Sciglio che però è andato a Lione ora De Sciglio a Lione grosso modo sta giocando sta ottenendo anche dei buoni riscontri da parte dello staff da parte dell'allenatore da parte dei tifosi almeno da quello che si percepisce mentre Rugani sta andando male perché già il 29 di ottobre si è fatto male ed è stato infortunato fino al 21 gennaio per un infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori 84 giorni e gli ha fatto saltare 16 partite con il Ren infatti Rugani fin qui ha disputato solo due partite ha fatto solo due presenze una da 90 e una da 17 minuti quindi per un totale di 107 minuti naturalmente 0 gol e 0 assist giustamente una società cosa deve fare a vedere una cosa simile dice vediamo un attimo se riusciamo a mandarti via e l'interessamento del Torino ha sbloccato questa situazione ora per quello che si legge è cosa praticamente fatta cioè oggi dovrebbe esserci l'ufficialità di Rugani al Torino Rugani che quindi adesso sta bene sta bene fisicamente o comunque non benissimo ma non è infortunato e potrebbe giocare tornando a giocare in Serie A tornando a Torino quindi nella sua casa immagino di Torino pur essendo non più giocatore della Juventus o meglio lo è ancora ma andando in presso dal Torino e trovando spazio ancora in Serie A per giocare ora a me dispiace tanto perché io in Rugani nel 2013-2014 avevo visto in prospettiva un grande giocatore e poi però probabilmente lui ha accettato troppo questo ruolo di subalterno alla Juventus quindi di non essere mai veramente un titolare non ha spinto col piede sull'acceleratore per dimostrare magari all'allenatore ad Allegri in particolare di poter essere invece un difensore titolare non ha mai fatto scattare quella competizione reale con i difensori titolari Bonucci Chiellini all'epoca anche Barzagli e ne ha cercato di andarsene da un'altra parte e quindi non è cresciuto o meglio è cresciuto tanto proprio perché si è allenato con i migliori però poi a livello di campo poco pochissimo quasi zero questa è stata la grande colpa di Rugani che ne dica il padre che ogni tanto su Facebook scrive qualche sfogo che poi il suo figlio è un grande giocatore ma sicuramente è un giocatore di primo livello però non ha mai dimostrato di poter stare alla Juventus come titolare solo in maniera ipotetica ma mai con vere certezze e quindi vederlo andare al Torino un po' mi dispiace per carità non che il Ren fosse chissà quale enorme squadra anche se ha fatto la Champions League quest'anno ma sicuramente meglio del Torino che lotta per non retrocedere quindi vediamo quale sarà il suo rendimento mi aspetto che possa fare 4-5 mesi ad altissimo livello perché altrimenti poi una volta rientrato alla Juve si tratterà veramente soltanto di cederlo non un grosso problema dal punto di vista del costo del cartellino perché Rugani praticamente costa zero la Juve quindi a qualunque cifra ci fa più svaenza forse un problema per quanto riguarda lo stipendio 3 milioni e mezzo netti a stagione non sono pochi comunque il suo contratto scade se non sbaglio nel 2024 quindi abbiamo tutto sommato tempo per gestirlo ma non credo che possa rientrare nelle rotazioni della Juventus alla fine della stagione quindi vediamo che cosa saprà fare al Torino che cosa potrà fare e speriamo per lui che faccia ottime cose ma c'è un altro giocatore formalmente della Juventus che sta in queste ore transitando al Torino ed è Rolando Mandragora giocatore altro giocatore per cui io stravedevo e continuo a ritenere che sia un ottimo centrocampista per esempio la Butto Lì secondo me ha più qualità di rabbio tra l'altro ancora abbastanza giovane perché insomma è 29 giugno 97 quindi quest'anno compie 24 anni ancora tutto davanti infatti è stato un centrocampista precoce anche per quanto riguarda le presenze in nazionale giovanile è stato capitano delle nazionali Under 21 per esempio perché ha tantissime presenze ma ha una sola presenza in nazionale maggiore forse il problema di Mandragora almeno il più recente problema di Mandragora è stato l'infortunio al legamento crociato di giugno scorso proprio quando stava per terminare la stagione e il suo percorso all'Udinese perché la Juve ha acquistato Mandragora e poi lo ha mandato in prestito prima al cradone e poi l'ha ceduto nell'estate 2018 a 16 milioni mi sembra all'Udinese o a 10 milioni con l'accordo della recompra da parte della Juventus a 20 milioni nell'estate 2020 poi è intervenuto il coronavirus e quindi quell'accordo è saltato è stato rinegoziato per cui la Juve ha riacquistato Mandragora per circa 10 milioni cedendolo però in prestito all'Udinese per questa stagione con opzione di prolungamento del prestito per la stagione successiva perché non poteva tra l'altro rientrare nell'organico di questa squadra anche se ripeto non avessimo mai preso Rabiot io un pensierino a Mandragora l'avrei fatto anche se sono caratteristiche diverse perché si tratta di un centrocampista Mandragora più mediano anche con capacità di regia piuttosto che una mezzala anche di campo aperto come è fondamentalmente Rabiot o sembra che sia ma non si è ben capito quali sono veramente le qualità le caratteristiche di Rabiot Mandragora che comunque sta giocando perché 10 presenze 0 gol e 0 assist in questa stagione all'esito del crociato ma la stagione scorsa prima di fermarsi 28 presenze 3 gol e 3 assist la precedente la prima l'Udinese 36 presenze 3 gol e 1 assist e l'anno prima in prestito al Crotone che poi cadde in serie B 37 presenze 2 gol e 1 assist quindi Mandragora che praticamente ha sempre giocato tolto il crociato appunto di giugno giocatore secondo me valido il Torino fa benissimo a prenderlo la formula dovrebbe essere quella del prestito di 18 mesi quindi andando a coprire praticamente a sovrascrivere diciamo così il periodo di prestito all'Udinese con obbligo di riscatto al 2022 e speriamo anche per Mandragora che possa fare un ottimo percorso al Torino che poi se il Torino dovesse retrocedere immagino che ci sarà un accordo per spostare Mandragora per interrompere il prestito per rinegoziarlo per fare qualcosa perché resta comunque formalmente un giocatore della Juventus che va in prestito al Torino perché in questo momento è un giocatore della Juventus in prestito all'Udinese con l'accordo che è stato fatto ad ottobre perché è un ottimo acquisto Mandragora per il Torino sia per Mandragora in sé sia perché il Torino avendo ceduto Meite ha bisogno forse di un rinforzo centrocampo sebbene si tratti di anche in questo caso giocatori con caratteristiche diverse che cos'altro possiamo dire in questo recap di mercato che poi è principalmente un video su Samichedira le operazioni dell'Under 23 si dice che Wesley possa passare al Sion quindi andare a giocare in Svizzera Wesley Andrade terzino destro brasiliano che in questa stagione tra sostanzialmente in Under 23 ha accumulato solo 8 presenze con 0 gol e 0 assist e ha anche giocato poco cioè non sono state presenze da titolare o per 90 minuti e siccome c'è un'abbondanza nel ruolo nel reparto per quanto riguarda i terzini in Under 23 Wesley non trova abbastanza spazio lo mandiamo pare in prestito poi se c'è una formula di cessione definitiva con mantenimento del controllo sul giocatore adesso non lo so perché l'unica voce che ho letto prima di registrare è Wesley Al Sion vediamo e quindi mi fa piacere perché potrebbe trovare una continuità di rendimento potrebbe giocare tanto il campionato svizzero rispetto alla serie C forse leggermente di livello superiore e quindi anche bene ma certamente non va in un campionato di livello inferiore quindi possiamo accettare come positiva questa operazione nel frattempo la Juve sta acquistando altri due calciatori giovani sempre in funzione dell'Under 23 poi faremo un recap di tutti quelli che sono stati presi anche se in parte ve l'ho già fatto in un video in cui ho parlato dell'operazione Rovella e in generale delle plus valenze della Juventus sta per arrivare o meglio è arrivato ieri a Torino Emanuele Pecorino punta centrale nato il 15 luglio 2001 quindi quasi ventenne del Catania acquistato dal Catania in questa stagione per lui a livello professionistico tra l'altro cioè in serie C 15 presenze 5 gol e 0 assist in totale in carriera comprese anche le presenze nei campionati giovanili 35 con 15 gol e 3 assist non so minimamente quali siano le caratteristiche di Emanuele Pecorino lo vedremo però registro il fatto che la Juventus per l'Under 23 prende un altro attaccante e questo potrebbe essere magari per vedere più spesso Cosimo Marco da Graca in prima squadra ed è forse anche per vedere per sostituire Vrioni che è in effetti al rientro nel mese di febbraio per una frattura però è stato fuori per un bel po' e quindi potrebbe tornare utile un attaccante a Zauli così come una promozione di qualcun altro dall'Under 23 più frequentemente in prima squadra per esempio Felix Correia sebbene si tratti di un esterno d'attacco non di una punta centrale ma proprio in funzione magari anche di Felix Correia visto che per esempio Marley Ake ieri nella vittoria in rimonta dell'Under 23 in casa contro la Gianna Ernino è entrato questo nuovo acquisto Marley Ake proveniente dall'Olympique Marsiglia è stato preso sta per arrivare anche Mattia Compagnon centrocampista sinistro ecco quindi che può tranquillamente fare l'ala sinistra lì dove gioca in questo momento Felix Correia del Potenza nato il 6 novembre 2001 quindi lui 20 anni li farà tra un po' più tempo 13 presenze un gol e 3 assist in questa stagione sempre in Serie C a livello professionistico in totale comprese le presenze giovanili 79 presenze 14 gol e 7 assist credo che siano due giocatori interessanti con già un po' d'esperienza appunto in Serie C anche proprio adesso in quest'ultimo periodo quindi il passaggio in Under 23 è qualcosa di molto interessante la Juve per l'Under 23 e per le giovanili in generale sta lavorando tanto e bene ne ho già parlato troverò a parlarne in funzione del fatto che tutti questi acquisti non sono secondo me limitati all'Under 23 ma sono anche in funzione di una strategia che porta alla scelta di quali dovranno essere quei giocatori attualmente in Under 23 da far transitare in pianta stabile in prima squadra e quindi magari un mercato in economia della Juventus che praticamente attinge al proprio settore giovanile senza dover acquistare al di fuori che poi è la situazione ideale che speriamo che riusciamo a costruire di qui ai prossimi anni ma che ci siamo già dentro cioè non dover più fare acquisti da altre squadre se non ovviamente per casi eccezionali lo so vai a comprare Kussema War per esempio per il resto vai ad attingere tutto dal settore giovanile dove hai fatto acquisti a poco prezzo quando sono giovani 16, 17, 18, 19 anni li fai crescere quando sono pronti li porti in prima squadra sarebbe l'ideale per il futuro credo che l'obiettivo della Juventus sia questo e lo stanno perseguendo vediamo poi quali saranno i risultati sul campo in tal senso vi invito a guardare le partite dell'Under 23 che purtroppo è a pagamento ma potete guardarle in differita su JTV e dell'Under 19 che invece su JTV le vedete se avete l'abbonamento incluse e in diretta e sono molto interessanti perché ci sono veramente dei giocatori che possono diventare molto forti non so se ci saranno aggiornamenti su Scamacca in realtà avrei dovuto anche fare una menzione a questo ma non si sa oggi potrebbe essere un giorno in cui Scamacca va da qualche parte ma non credo sinceramente che venga la Juve quindi per quanto riguarda il mercato mi fermo qui video che è già vecchio in qualche ora però tutto sommato è definitivo per quanto riguarda i nomi che vi ho fatto e quindi grazie per l'attenzione nei commenti ditemi come la pensate quindi buon dibattito mettete like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti